Cascina degli Avvocati Messa di Milano. A Palazzolo c'erano due rami dei Messa, i signori in Messa e i Messa, di cui faccio parte. I signori in Messa e i Messa. I Messa, per cui questi erano proprietari terrieri, avevano una cascina, tutti i loro contadini. Io le informazioni che ho è che la parte orientale e centrale c'è già nel Catasto Teresiano, una L. La parte è dell'Ottocento. Esatto, perché adesso ci sono delle fotografie bellissime con la ringhiera in legno, addirittura c'era il balcone, il terrazzo all'interno in legno per i piani superiori.